Torna a fare discutere il tema delle vaccinazioni Covid-19 rivolte agli anziani ultraottantenni. È il consigliere regionale Ferruccio Sansa a rilanciare l'appello del comico spezzino Dario Vergassola che in un videomessaggio racconta una vicenda di carattere personale che affronta una problematica che in Liguria coinvolge migliaia di persone. Mio padre ha 88 anni, è otomizzato malato oncologico. Più di un mese fa è arrivata una lettera che andava compilata e poi spedita. Non l'abbiamo spedita, forse i vigili, non ricordo. e dovevamo aspettare che ci fosse una chiamata. Qualcuno è stato chiamato, qualcuno no. Non si capisce, diciamo, la logica di come stanno chiamando queste persone. Un altro invece ha detto la lettera, io non mi è arrivata, quindi io faccio la domanda online. Ho fatto una domanda online, io sono testimone di questa domanda online, gli ho detto è libero, dopo domani venga, è andato e porta il parente, l'hanno fatto. Quindi non si è riuscito a capire cosa bisogna fare. Un problema che riguarda soprattutto le modalità di richiesta della vaccinazione e le tempistiche. È infatti concreta la possibilità che l'attesa di chi si è prenotato si protraga addirittura fino all'estate. Questi qua che sono in lista della lettera, quanto devono aspettare? C'è qualcuno che ce lo può dire? Potremmo essere avvisati. Le file domande online ti dicono adesso, però no. Però si può fare a giugno. A giugno? Ma come, cioè l'appuntamento a giugno? Ma prima avevate detto che entro il 31 di maggio in Liguria andavano praticamente vaccinati tutti gli anziani. Quindi adesso siamo già a giugno. Ma se io faccio quella domanda lì, la mia lettera che ho spedito, magari era prima come domanda, mi rimanda indietro, mi annulla la precedente. Cioè, cosa dobbiamo fare? Vergassolo offre anche una soluzione al problema, anche se nel caso, quel che prevale è la mare ironia del comico. Chieda a quello che ha organizzato tutto questo, sarà sicuramente un dirigente, sarà uno che ha studiato, perché non ha organizzato una bella tombolata in piazza, distanziati con le mascherine, così passavano anche un po' di tempo. Cioè, uno vince, non so, un po' di farinata, quell'altro vince, non so, la mesciua e uno vince il vaccino. Credo che fosse la cosa più logica. E poi ho scoperto stamattina, tra l'altro, che gli avvocati sono diventati categoria a rischio. Ben per loro, più vaccinano persone, meglio è. Però, siccome mio papà è stromezzato, a me mi serve una badante, cioè la badante non è a rischio. L'avvocato sì. Posso chiamare l'avvocato a fare il lavoro della badante? Questa è la domanda.